Qual è l'apporto vostro a questa firma? È l'essenza di questo protocollo su cui la Regione ha una funzione importantissima. È quello che il territorio toscano si tutela sia nelle estreme altezze, come sono le foreste, e quindi quello che il corpo forestale normalmente fa, insieme alla Regione ovviamente, anzi in primis la Regione. Poi si tutela la pianura, però per far questo si deve tutelare la parte che c'è fra le foreste e la pianura, che è tutta una grossa fetta di territorio toscano, ma diremmo nazionale, che è la parte dell'interfaccia fra le foreste e fra la pianura. Quindi è tutta la parte di agricoltura o agroalimentare toscano. Per far questo diremmo che una cooperazione essenziale, diremmo una condizio sine qua non, è quella del rapporto con l'Accademia dei Giorgofidi, che non ho bisogno di aggiungere altre parole, e quindi vorremmo aggiungere in più a questo protocollo, che diremmo è un altro punto importante, è quello di un forum, un forum che possa dare velocità, possa dare concretezza, possa dare attuazione alle azioni che vengono fatte per proporre anche agli enti territoriali e quindi in questo senso siamo un braccio della Regione con cui si possono fare sicuramente cose positive per il territorio toscano. Quali sono le criticità concrete che questo protocollo potrebbe risolvere? Sicuramente è quello dell'assetto del territorio. Il territorio va difeso attraverso le persone che ci vivono e ci lavorano, quindi attraverso gli agricoltori in senso lato, attraverso gli imprenditori agricoli. Per far questo significa che l'assetto, la terra, deve essere ovviamente difesa, non ci devono essere dissessi o inizi di dissessi su cui si deve intervenire, quindi è di tenere il territorio ben saldo. Per tenerlo saldo però c'è bisogno di economia, di reddito. In questo pensiamo che il Corpo Versale possa dare una sua mano di valorizzazione, l'Accademia anche, ma in primis è la Regione che lo fa.